io ad esempio sono una star istantanea basta aggiungere acqua e mescolare certe volte mi sento una persona certe volte come adesso non sono che un insieme di idee di altre gente il che mi dà un senso di solitudine ed isolamento come queste donne che non riescono ad uscire da quegli eterei manichini di ursola meyer crystal gaze sguardo di cristallo per una visione distaccata e impalpabile della bellezza femminile che si muove però su una linea che confina con il desiderio il peccato le fantasie e i vizi bellezze incatenate e pronte per essere offerte alla fantasia di chi le desidera noi siamo gli artefici della vita ma è anche vero che la vita stessa è artefice di noi stessi